pronto? Giulio? Sì? Sono Raffaella, che tua figlia? Eh, passo? Eh, sì, sì. Ok, grazie, ciao. Pronto? Pronto. Oh, Valeria, ciao, dimmi. Pronto. Che hai fatto? Dimmi. Vabbè, non ti preoccupare, Valeria? Valeria? Non ti preoccupare, Valeria, dai, ci risentiamo lunedì. Non ti preoccupare, Valeria? Non piange, Valeria, dai, vabbè, è successo. Valeria, è successo, non fa niente, dai. Valeria? Non piange, dai, non ti preoccupare, papà te vuole bene lo stesso. Valeria? Dai, papà sta qui al Fulma, aspetta al Fulma. Mi senti? Sì. Bravissima, mi mandi un bacione? Bravissima, grazie. Papà te vuole bene lo stesso? Ok. Dimmi, che mi vuoi dire? Non capisco, Valeria, che hai fatto? Parla piano piano. Scusa, scusa, non ti preoccupare, non ti preoccupare, Valeria, ti vuole bene, papà. Lo so. Ok. Mi mandi un bacione? Un abbraccio? Un abbraccio. Bravissima, Valeria, non ti preoccupare. Questa volta non succede niente se sei un attimino arrabbiata, non ti preoccupare. Ti vuole bene, papà, Valeria? Ok? Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Sì. Te lo voglio sentire dire, dimmelo. Ti voglio, non tornarmelo. Grazie, Valeria, non ti preoccupare. Non mangi, vai a dormire, ok? Eh? E fai tappare il domenica. Non ti preoccupare, non devi piantare. Aspetta, ma c'è cosa? Sono a te? Dimmi. Sono a te? Dimmi. Mi ho liberato tutto il corpo perché ho fatto un sogno brutto. No. Ho capito, ho capito, ok. E ti sei svegliata male perché ci hai avuto un brutto sogno, giusto? Sì. Ok, bravissima. Va benissimo che me l'hai spiegato, grazie. Però non ti preoccupare adesso. Adesso vai al bagno, ti sciacqui bene il viso, ok? Ti daivi le lacrime, ok? Ti vai a bere un bel bicchierone d'acqua. Eh? E poi ti metti a cena, va bene? Mi mangi un abbraccio un'altra volta. Un abbraccio. Un bacione? Dai, fammi un sorrisone, dai. Ti voglio bene, Valeria, dai. Anch'io. Brava, Valeria. Non ti preoccupare del brutto sogno, che il brutto sogno è stato stanotte e monta stanotte e li fai i sogni belli, ok? Papà ti vuole bene. Papà sta facendo di tutto per riportarli a casa. Ok. Ok, Valeria. Papà ti vuole bene. Ok. Io sto facendo di tutto per fare di tutto per a casa a te, Valeria, ok? Sì. Ti vuole bene, papà. Ok. Vai a sciacquare il viso, Valeria. Attacchi e attacchi bene? Insieme, dai, attacchi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.